ciao allora video dei top e flop del mese di novembre sembra un po molto arancione ma è lo sfondo molto arancione sì ebbene sono già a cammino acceso perché siamo sempre a novembre decorazione autunnale e ghiande le ghiande e sono carine e ho anche persa una ma va bene allora e iniziamo con i top e flop partiamo con i top come sempre primo top ci sono dei top questo mese ma sì dai primo top sicuramente sono i saliettini struccati dei make up questi qua expert sono fantastici perché hanno un lato leggermente di abrasivo e l'altro per rimuovere il trucco quindi con uno rimuove il trucco il grosso del trucco con l'altro vai di pulizia totale per me sono fantastici credo che si capisca anche perché mi trovo spesso in offerta a 99 centesimi quindi faccio super super scorta altro prodotto che quando non trovo quei dischetti li allora a questo punto prendo questi della cotoneve che cotoneve fiocchi di purezza eccoli qua questi sempre a 99 centesimi e li trovo quasi in offerta sono molto più delicati quindi fanno più fatica a rimuovere il trucco ma la cosa bella è che sono tutti cuciti sul bordo quindi non perdono i pelucchi e la cosa che apprezzo molto quindi anche loro promossini dai è altro promosso mettiamoci un nì un nì un nì dal mese è questo trattamento anzi cellulite del libro sei il clé vegetale minseur e sapete che da solo non fa una cippa ok va bene ma comunque ho trovato che ha migliorato un po la situazione soprattutto perché favorisce un po il massaggio quindi nì perché sapete che funziona poco e niente però aiuta un po con il massaggio andiamo ai flop perché ci sono e come se ci sono primo flop questo della garnier e il detergente purificante delicato fresh eccolo qua gel mousse purificante detergente detergente infesca la pelle per pelle normale mista con estratto duo purificante ok assolutamente bocciato intanto è vero fa una bellissima mousse molto morbida molto delicata si lava bene si sciacqua bene la mia pelle non lo tollera mi sono uscite un sacco di imperfezioni con questo prodotto e appena l'ho smesso sono stanno carando quindi è sicuramente questo quindi io attenzione se avete la pelle soprattutto sensibile anche se è normale mista come la mia e anche se è sensibile no non è proprio un buon prodotto usato anche una volta al giorno la mia pelle non lo tollera quindi bocciato altro bocciato e lo sapevamo che era un bocciato questo però ci sono cascata la bello questo mi sembrava carino perché fruit shine era un rosso pochino si vede ancora è un burro cacao che colore effettivamente questo colore molto però io sono ricaduta del circolo delle la bello perché non idrata niente è un burro tanto molto morbido e quindi è stato a spiaccicare sulle labbra non è neanche bello non neanche comodo da portarsi dietro e poi non idrata vai ad applicarlo dopo 10 minuti se gli con le labbra in oscrepolati torna ad applicarlo è un circolo di azioso che è finito fuori dal da ragionamento invece quelli colorati sempre io d'oro questi del libro sci che invece sono sì leggermente colorati tipo questo e tipo questo vedete che sono sempre più o meno colorati però questi live ad applicare davvero durano e davvero idrata no una cosa molto differente finché sono in tema di bassa me labbra ho finito stranamente altri due del libro sci quello al cocco e quella carité davvero sono fantastici questi li porto dietro me li applico di tanto con i piedi freddi sono una cosa meravigliosa questi erano tutti i top e flop del mese di novembre fatemi sapere se siete provati se avete fatto qualcuna come siete trovate io spero di essere utile e se vi è piaciuto il mio video lasciatemi un like e iscrivetevi al canale alla prossima ciao